Dietro segnalazione dell'Avis Campania, il direttivo nazionale dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue ha espulso alcune sue affiliate sul territorio regionale. L'Avis Napoli 3 e Napoli 5, il comprensoriale di Avellino e quello comunale di Casoria sono stati ufficialmente tagliati via come rami secchi dall'associazione. Questo per motivi gravissimi. Ce ne hanno parlato Angelo Perrotta, il presidente regionale dell'Avis, e Teresa Modio, amministratrice regionale e consigliera nazionale dell'Associazione di Volontariato. L'obiettivo che ci siamo posti adesso è fare chiarezza. Da questo momento in poi abbiamo, passatemi il termine, troncato i rami secchi, quindi è una fase non solo conclusiva di un processo ispettivo, ma è contestualmente l'inizio di una nuova fase della regione Campania, dell'Avis nella regione Campania. Quattro realtà associative, interdipendenti, collegate, interagenti, che hanno squalificato il lavoro di Avis Campania. E le motivazioni sono molto gravi, sono mancanza di rispetto dello statuto avicino, ma anche comportamenti ai limiti dell'illecito civile e penale, tant'è che Avis Nazionale ha avviato dei procedimenti giudiziari che avranno il loro corso. È preoccupante come questa espulsione abbia avuto delle ripercussioni sulle donazioni di sangue effettuate, ci ha confessato Leonardo De Rosa, direttore sanitario dell'Avis Campania. Volevamo prima di tutto fare un appello ai donatori, quindi di recarsi comunque presso le strutture avisine ancora attive o presso i centri trasfusionali della regione per donare il sangue. E poi per comunicare in realtà che la responsabilità di quanto accaduto non può essere attribuibile ad Avis in quanto tale, ma in realtà ci sono motivazioni ben più complesse, complicate, diciamo che hanno portato all'espulsione di questi soggetti dall'Avis regionale.